ecco da una mappa decente bene la paluna mi devo giocare adesso il tempo di purificazione con la merchant porco 2 che odio Ancanni grazie dell'abbonamento gentilissimo caro grazie del supporto ragazzi forza spam di cuoricini in chat è mollato subito il main la main ansa ok ha preso il drone una lit posso agita da te non me l'aspettavo che mi mettessi il il coso della community challenge onestamente vabbè per un acceso è andato molto chill come no creco il popolo vabbè che significa comunque siamo tutto bene da me bisogna aspettarsi di tutto aia detta così un po' sus da un pop chissà che cazzo già stanno lavorando questi due ciao cari buonasera caro come stai facendo rumore apposta speravo che fosse qua quello ma è andato eccolo qui nessuno sta ancora andando a fare il save sono incastrato per sbaglio holding w non sono ancora andati a fare il save questi uno è là e uno è qua what the fuck ma cosa stanno facendo questi qua dovrei arrivarci per lo speed no non c'è io ho fatto un aggiornamento della scheda grafica comunque fuck mi sembra andare molto più liscio il gioco anche se non hanno gli fps tecnicamente giusti ecco ho preso la trappola la sfiga ormai sono una leggenda io sono leggenda hanno fatto il save quando è andato al second stage questi sono un po' birbantelli non arrivano gli scurci tutti nella parte opposta della mappa oh guarda tra contatto col grifo mio grazie arrivederci madosnake prepara il pad ah considerate che io all'inizio volevo mettere 50 500k ma si dai mettiamolo bello alto così magari non me lo fanno far subito ma com'è che sto laggando porco due adesso adesso per forza sono il trickster vabbè manderemo a votazione probabilmente ma perchè ancora il ping alto oggi dovrebbe andare bene adesso la connessione ma che cazzo succede tu quante persone abbonate non si dice dai pinhead è fortino e ha perk veramente buoni tipo in pass stra buono per come perk perchè ti aiuta tanto a difendere i generatori se hai mai notato magari i generatori ti partono in fretta pinhead è proprio perfetto per questa cosa qua perchè è un perk che in pratica ti ti toglie questa cosa del del perk che vola subito in pratica oh ti è più data la trappola comunque la school merchant è bangata sfak ogni tanto non mi piazza proprio il drone quando si prende lo slow mi prendo lo speed adesso quindi la raggiungo per forza ho sentito un coso verde beh siamo abbastanza vicini ora come ora da voi piove da noi ha piovuto non so se attualmente sta piovendo è hard vabbè lei è dead o nuca vado per lei tutta la vita ed ecco che arriva botman che fa i bot su twitch sì il pinhead è un pochettino di figlio è come l'artista è un po' difficile però è uno di quei killer che ha tanti potenzialità what dai che palle è la graga ciao ciao buonasera ok e lei è muerta vado a calciare sto gen perché non voglio che lo completino perché a me alle volte hit sento che la tizia è lag quella di lei che c'è nel gioco in questo momento mi sta laggando il server per esempio però è strano sta dando problemi anche tutte le connessioni mi stanno dando problemi questo periodo la trappola lei ok messa tanta roba l'unica cosa l'unica cosa è come il mandiano quando sto in corsa per selezionare mi cadono le braccia è da pc o da controller troll il clown secondo me è proprio il primo prima da comprare con i soldi in game quella è l'importante la differenza ora da pc beh da pc è molto più comodo comunque in quell'epoca mi assicuro vabbè si sono arreso perché ha fatto una cosa ha fatto un movimento strano dura 30 giorni questo qua ho visto che si stare alzando sì l'ho visto anch'io così ho detto what the fuck avrà un anti-slugbill secondo voi non lo so prima o mai però un po' nerfato che si è andato male ma ha mangiato un buon pollo fritto e mi ritipa indietro ragazzi pura botta la sponda guarda che bello vai altri punti ci arriverò secondo voi al cosa vera l'ho visto lì da qualche parte ma non credo di arrivarci no mai ci arriverò ma con lì dentro poi sapete il pollo fritto sarebbe tipo cotoletta di pollo ciao